Una cosa è certa, a Porto Rico le farmacie tra poche ore venderanno quintali di sciroppo per la gola perché i tifosi presenti a Backlash hanno cantato dall'inizio alla fine. E forse è questa la notizia più importante che esce dall'evento, al di là dei risultati di cui tra poco discuteremo, ovvero la linea che la WWE ha imboccato ormai da circa un anno, ovvero cercare di portare dei mega eventi fuori dagli Stati Uniti in nazioni che hanno fame, voglia e desiderio di wrestling, di fronte a supporter che desiderano vivere quegli show come una grande festa. L'abbiamo visto in Galles, in Arabia Saudita e ora anche a Porto Rico. La cornice di pubblico è stata eccellente. Sono stati i co-protagonisti, i fan, i tifosi dell'evento. Sono saliti in cattedra. Hanno accompagnato Seth Rollins, Zelina Vega, Yo Sky, un po' sorprendentemente, Matt Riddle, Sammy Zane. Insomma, hanno generato quell'emozione supplementare che forse solo il wrestling oggi, come disciplina trasversale, riesce in qualche modo a cucinare e a servire nel piatto. Ora andiamo ad analizzare match per match, come faccio di solito. Partiamo da Bianca Belair contro Yo Sky. È stato un duello dove c'è stato un selling specifico di Bianca. Alla spalla, se non ricordo male, la sinistra. E questo l'ho apprezzato molto perché di solito Bianca non fa queste cose. Quindi vedo un tentativo di evoluzione. Ma c'è sempre un problema. Che la Belair non riesce a darsi una regola, un limite. Qui tenta un sollevamento di Yo Sky con un braccio solo perché il braccio sinistro, indebolito alla spalla, non tiene e ci sta perfettamente in linea logica con quello che ci ha mostrato. Poco dopo fa praticamente una verticale con rimbalzo alle corde un handspring che non ha senso perché se non ti tiene e non regge un braccio una mossa del genere non la tenti nemmeno. Ecco qua una parte finale probabilmente di quella tecnica che vi ho indicato e descritto. A parte questa mia annotazione il match ha dimostrato che Yo Sky può essere ritenuta senza problemi l'erede naturale di Asuka. Qualora quest'ultima decidesse di ritirarsi, andare via tornare in Giappone, limitare il suo impegno nel ring Io Sky garantisce il proseguimento, il proseguire di un'ottima wrestler con stile nipponico all'interno del roster. Quindi si prende almeno virtualmente questo testimone. E poi c'è stata anche una bella storia perché a un certo punto le damage control hanno provato ad interferire nella battaglia e mentre Dakota Kai, eccole qua, con un calcio ha infastidito Bianca avvicinando Yo Sky al successo quando Belis gli è intromessa e ha afferrato i capelli di Bianca l'arbitro l'ha sgamata e l'ha richiamata vivacemente. Yo Sky si è distratta guardando anche l'alleata e ha perso l'attimo giusto per sferrare il Musolt e di lì a poco è stata schienata dalla KOD della campionessa che si è confermata tale. Al di là di quello che vi ho detto è stato un bel match. Alto ritmo, poche pause, intenso da rivedere come Bianca imposta le sue battaglie. Io ho visto dei miglioramenti ma poi ci sono sempre le solite cadute. In generale una grandissima atleta Bianca Belair contro una grandissima wrestler pura Yo Sky. Questa può essere la fotografia del match Bianca Belair può diventare davvero il nome d'immagine della divisione femminile dell'intera compagnia secondo me solo se lavorerà sulla parte di storytelling interno al campo di battaglia nel quale ad ora rimane carente. Sembra di vedere l'alba all'orizzonte speriamo che non sia un miraggio qualcosa ha aggiunto ma è ancora troppo troppo poco soprattutto se poi viene negato in continuity quasi immediatamente. ma non strapromuovere questo match sarebbe da folli. Così come un'altissima valutazione lo merita anche homos contro Seth Rollins qua il pubblico praticamente è andato avanti in maniera ininterrotta con la melodia di Seth sono stati una colonna sonora stupenda i fan di Porto Rico e io qua voglio dire una cosa impopolare su homos ci sono tanti pregiudizi internet è spietato quando vieni bollato con il marchio dell'incapace poi non te lo scrolli più di dosso e io già mi vedo qua cosa accadrà nei forum o sui social o in altri video o analisi podcast di influencer beh homos ha disputato il grande match vi diranno perché c'era contro Seth Rollins ha fatto tutto lui Seth Rollins ha portato un tronco inamovibile ad un grande risultato questa sarebbe la più triste bugia che si possa raccontare su questo match homos ha fatto tutto bene le mosse di potenza l'essere nella posizione giusta al momento giusto i tempi dei rialzi le espressioni facciali per quanto può con la faccia e il viso che si ritrova ha veramente messo nel match una tempistica e una presenza che probabilmente prima non era mai riuscito a proporre quindi magari sì l'avversario lo ha aiutato o lo ha favorito ma c'è tanta farina del suo sacco ad esempio in un match successivo Bobby Lashley durante uno schienamento sbaglia la posizione si porta dalla parte opposta dello schienamento perché sa che deve essere trascinato fuori dal ring da chi è lì ma nessuno dirà niente perché è Bobby Lashley perché è forte potente ha stravinto uno che fai fatica a dargli contro perché è l'opinione pubblica poi ti mangia su homos invece fai gol a porta vuota ecco io voglio spezzare una lancia sul gigante nigeriano perché qui da un punto di vista professionale credo che sia veramente difficile se si è onesti intellettualmente dire che ha fatto male piuttosto si può puntare il dito alla WWE che non ha protetto il suo fattore real facendolo perdere praticamente in tutte le rivalità che ha disputato quella da cui è uscito meglio è almeno in singolo la serie di match disputata con Bobby Lashley visto che ha perso molti di questi per casualità per interferenze o partecipazioni di MVP e via dicendo ad ogni modo inizialmente resiste agli stomp grazie anche al suo collo ipercorazzato poi alla fine c'è una conclusione pirotecnica con il super stomp dal paletto di Seth Rollins e anche qui homos incassa secondo me molto bene la tecnica e abbiamo di conseguenza un finale che ci regala un'altra manovra importante un altro non dico moment da ricordare ma un qualcosa che sicuramente può essere tra le immagini clou della Kermess quindi ben fatto per entrambi bel match bravi andiamo a Austin Theory contro Bobby Lashley contro Bronston Reed la password a mio avviso per questa battaglia è frenesia io non amo particolarmente i match a tre soprattutto se non ci sono le eliminazioni ma ammetto che stavolta gli atleti coinvolti e questo faccio una confidenza era il confronto che attendevo di meno però ripeto ammetto che gli atleti coinvolti ci hanno dato delle bellissime sequenze a tre anche in questa circostanza boom 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 uno fermo gli altri dentro ecco qua la sequenza in cui vi dicevo un errore che magari in pochi riusciranno a vedere dello schienamento Bobby Lashley prima schiena dalla parte opposta poi si gira ma al di là di queste minuzie che magari vedo io e me ne accorgo perché ormai seguo il wrestling da diverse decine d'anni volevo proprio sottolineare come siano riusciti a vincere il ghiaccio della mia diffidenza poi il finale è il solito canovaccio di Austin Theory che approfitta del lavoro degli altri per vincere il match quindi arriva a fare il nido dopo che gli altri atleti coinvolti dotati di manovre di potenza superiori alle sue si sono demoliti tra di loro e tra i due i litiganti il terzo gode Theory per me rimane un personaggio da ricalibrare completamente capisco perché gli abbiano tolto il cellulare poteva anche essere un invito all'emulazione e al bullismo con le nuove tecnologie che è un fenomeno che va combattuto e messo alla berlina però al momento non mi sembra un atleta che ha un particolare sapore al palato è indubbiamente abile preparato ha già maturato delle esperienze clamorose con ex campioni del mondo in scenari di assoluto prestigio però secondo me il personaggio è tale quale ha troppi altri è un clone di una serie infinita ciò detto anche questo match è stato bello ragazzi io credo che se avete vissuto l'evento a cuor leggero sapendo che era non dico un filler ma comunque un galleggiante tra due epoche distinte pre e dopo draft questi primi tre match non possono che avervi messo nel mood giusto andiamo avanti Rhea Ripley contro Zelina con la mission impossibile della piccola rappresentante di Porto Rico piccola nella statura ma grande nel cuore e nelle motivazioni una Zelina sempre più simile a Sasha Banks per Luke che si commuove prima che il match cominci osservando tra l'altro i suoi parenti tra il pubblico c'è la madre c'è il padre lo zio il patrigno Zelina Vega ha una storia credo che la sappiate ma ve la racconto brevemente bellissima e tragica alle spalle suo padre il suo vero padre è morto nell'attentato delle torri gemelle e lei è riuscita a parlargli quando ormai lui sapeva già che la sua vita sarebbe tramontata si sarebbe conclusa di lì a poco quindi è stata in grado di accommiatarsi da lui con un ultimo saluto e il padre che ormai aveva lasciato la madre di Zelina ma i due erano in buoni rapporti al telefono si è fatto passare l'uomo che l'ha sostituito in famiglia e gli ha detto io non potrò più essere lì per lei per i miei discendenti per le persone che amo dovrai farlo tu al posto mio quindi ha accettato tra virgolette la fine di un amore riponendo una clamorosa fiducia umana sull'uomo che è andato ad occupare la casella che prima era sua ci sono delle bellissime testimonianze di Zelina sui social di lei che va a deporre i fiori al monumento dell'11 settembre o i ricordi del padre dell'ultima vacanza prima che purtroppo perdesse la vita quindi io capisco anche questo uovo sodo nella gola nel sentirsi eroina lei Locarder sino all'altro ieri in un evento così importante manca una una conoscenza sportiva di Zelina mettiamola così ci ha mostrato poco sin qui a livello di repertorio non ci hanno dato un granché modo di conoscerla di sapere cosa fa e secondo me un po' l'ha pagato perché non sembra avere tante mosse nel serbatoio e in più contro una grossa potente distanza come Rhea Ripley è chiaro che tutto ciò che prevede un sollevamento o quasi non funzioni qui l'ha addirittura lanciato una ciabatta vabbè comunque il match ha mostrato per quanto sia stato breve una grande caparbietà da parte della sfidante e a me è piaciuta con Rhea Ripley contro un'intera nazione bravissima a provocare il pubblico e nel momento in cui lì imitava anche Eddie Guerrero cioè è fantastico vabbè ad ogni modo nel momento in cui Zelina guardate qua anche come va a contorsionarla mostrando la lingua nel momento in cui Zelina è uscita dal suo gucio come un pinolo ed è andata anche per la 619 piazzandola ecco che Rhea Ripley ha fatto ricorso alla sua brutalità già prima aveva affondato i colpi qui cambia marcia e la Riptide non lascia scampo alla sfidante Zelina non esce male da questo match però non dimostra di valere i main event per le cose che vi ho detto un repertorio streaming sito contro quelle più grosse che un po' è andato a ricordare Rey Mysterio che è suo alleato il suo capitano nel latino world order e difficoltà nel pubblico nel capire le fasi salienti dell'attacco di Zelina perché al di là della 619 o di qualche DDT o tuffo per il resto è ancora un'enorme incognita l'abbiamo vista come valletta come accompagnatrice ma a parte queste ultime settimane come wrestler è ancora un oggetto un po' misterioso degli ultimi tre match ecco qua non ci sono le foto quindi ve ne parlo semplicemente con la copertina allora Damien Priest contro Bad Bunny nel suo genere è stato un piccolo capolavoro tutti cantavano l'ingresso di Bad Bunny lo hanno cantato a lungo come se fosse l'inno nazionale portoricano e Bad Bunny ha dimostrato di essere incredibilmente atletico e di essersi preparato a dovere certo questo match probabilmente ad un fan un po' duro e puro con una certa teologia parrà quasi una perdita di tempo o un insulto uno grande e grosso come Damien Priest perde ma per la WWE è stato un modo per accendere quella festa di cui vi dicevo quel senso di appartenenza ad una sigla perché per quanto possa essere fanservice vi accontentiamo e la base del mercato è accontentare magari non sempre a Verstelmenia non è successo ma accontentare ove possibile i tifosi fare in modo che siano lieti di esserci stati alzando la cuolina per un eventuale bis futuro questo match ha avuto una dose di ignoranza pazzesca gli oggetti contundenti e poi ovviamente è una manna per i media ma questo è sottointeso questo match è fatto per avere i titoli sui giornali la star della musica Bad Bunny sconfigge Damien Priest è anche forte a fare wrestling però dicevo oltre a questo l'ignoranza gli oggetti i contundenti le intromissioni a sorpresa quella di Carlito quella di Savio Vega a me sta bene mi sta bene perché comunque mi sono divertito ho visto la Canadian Destroyer di Bad Bunny e ho visto Damien Priest lavorare sul selling della gamba sinistra che cede fa finta colpisce a tradimento subisce la figure for leg lock ci sono 3 o 4 momenti in cui pensi il match è finito e invece vanno avanti hanno sollevato l'onda delle emozioni è stato divertente è stato divertente io non credo che si possa dire qualcosa di troppo malvagio o maligno su questa battaglia una volta che si capisce e comprende eventualmente la finalità per cui è stata messa in scena ovviamente Finn Balor e Dominic hanno provato a interferire si sono trovati contro tutti gli atleti latini origine portoricana sono arrivati quelli del latino world order è stato bello bello dai appagante appagante ogni tanto lasciamoci appagare cioè in questo match c'è la WWE che vi piaccia o no c'è world perché siamo in giro per il mondo portiamo il wrestling ovunque ne abbiamo la forza abbiamo il soldo ne abbiamo la popolarità world wrestling c'è stato il wrestling magari in questo match potreste non ravvisarlo perché è spezzettato regole particolari quello che volete ma c'è stato il wrestling nella card nei match che abbiamo visto prima c'era il wrestling c'era un professionismo da atleti elevatissimo e quasi ogni cosa al di là del bardo che è un criticatore professionista anche di dettagli tutto ha girato per il verso giusto e poi c'era l'entertainment c'era l'intrattenimento e ce l'avremo anche dopo quindi questo match è proprio la cartina di tornasole no l'esempio di quello che può essere la WWE quando in queste tre direttrici punta in maniera forte coinvolgendo un esterno un esterno che però vuole prestarsi un entusiasta come Bad Bunny io ero in live reaction su Twitch eravamo tipo in 400 a un certo punto anche quasi 500 poi chiaramente verso la fine siamo diminuiti però a me è sembrato riscuotere anche il consenso della quasi totalità di chi era lì presente il testimone più pesante anche qui non ci sono le foto l'hanno raccolto quelli dell'incontro successivo ovvero solo si coa Jimmy e Jay Uso contro Sami Zayn Kevin Owens e Matt Riddle e il match ci ha regalato prima una finta cioè Jimmy che sbaglia un superkick e colpisce Jay io ho iniziato a pensare aia attrito tra i due fratelli invece i litigi si sono verificati ripetutamente tra Solo e Jay con Solo che si prende un cambio che Jay non gradisce che quindi si riprende e si arriva in questo crescendo di nervi tesi ad un momento in cui Solo potrebbe colpire Jay con il Samoa Spike ma viene interrotto e quindi non lo fa tuttavia al di là di questo quindi non sapremo mai bene le sue vere intenzioni al di là di questo a un certo punto sembra che Solo riesca malvolentieri a mettere da parte tutto per il bene della bloodline per far sventolare la bandiera della fazione che rappresenta e alla fine con una collaborazione a denti stretti i Samoani riescono a farcela riescono in qualche modo a spalleggiarsi e vincono il match con Solo Sikoa che schiena Matt Riddle dopo il Samoa Spike fine match nel ring tre atteggiamenti diversi Jimmy Uso che non ha visto bene perché era K-Ora fuori dal ring tutti i momenti di attrito tra i due suoi alleati che ride ignaro inconsapevole quasi di quello che è successo J-Uso comunque contento perché hanno messo una pezza alle due sconfitte recenti gravi riportate per i titoli tech team prima li hanno persi poi non li hanno rivinti quindi magari il giudizio di Roman Reigns nella prossima puntata di SmackDown sarà un po' più benevolo quindi J-Uso comunque disteso e Solo Sikoa è incazzato nero con Jimmy e J che alzano le dita al cielo e alla fine Solo Sikoa si unisce ai loro festeggiamenti ma è sempre un po' recalcitrante anche questo è un bel match un bel match con una storia coerente tante belle azioni atleti abili a capire il pubblico a giocare con i tifosi ognuno ha avuto il suo momento di gloria ha avuto il tempo per piazzare le sue mosse tipiche ragazzi per me questo è stato un bel evento è stato un bel evento a parte e qui arrivano le note dolenti il main event il main event farà discutere magari trascinerà di molto verso il basso il giudizio di parecchie persone sulla Kermess su Backlash allora Cody aveva promesso un match leale in realtà assalta Brock Lesnar prima della campana e usa oggetti contundenti di vario tipo aveva promesso che appena Brock Lesnar si sarebbe distratto chiuso gli occhi e quant'altro l'avrebbe aggredito e lo ha fatto anche in quella maniera lì che vi ho raccontato e sostanzialmente aveva in qualche modo lasciato intendere che sarebbe andato a prendersi la preda quasi una premonizione lui non l'ha detto in maniera esplicita perché in WWE sono argomenti tabù ma ci aveva fatto capire intuire che quella sua voglia di vendetta avrebbe potuto trasformarsi in sangue e sangue c'è stato a un certo punto durante un'azione un cuscinetto del ring vola tra gli spalti e Lesnar ci finisce più avanti sopra con la testa e si ferisce un Brock Lesnar che subisce due crossroads e resiste subisce tante altre manovre e va avanti prima potrebbe vincere piazza le sue tecniche identitarie Cody però dice di no e a un certo punto Brock chiude il nemico nella Kimura Lock una tecnica micidiale che in passato ha rotto le braccia almeno nella narrativa della WWE ai suoi avversari solo che Cody la ribalta in una maniera strana dopo aver resistito per un po' e vince con una culla un pochino bizzarra durante la quale probabilmente una delle due spalle di Brock Lesnar non è assolutamente al suolo cioè non è adiacente e che succede? Cody Rhodes praticamente sembra scappare cioè hai vinto un match decisivo contro un atleta quotatissimo ma il finale è Cody Rhodes che quasi in sordina torna nel backstage senza grossi festeggiamenti senza niente di particolarmente sconvolgente e Brock Lesnar scioccato per la sconfitta tutto insanguinato in faccia che nel ring un po' ride istericamente e un po' sembra meditare una vendetta che vorrà consumare in futuro ma in generale il match sembrava poter offrire ancora molto ci sono state due o tre near falls carine ma il finale non è soddisfacente io ho avuto come l'impressione che la WWE nella necessità di voler salvaguardare i due atleti ha detto ok Cody ha già perso a WrestleMania non possiamo ulteriormente metterlo al suolo e quindi vince lui ma Brock Lesnar è un nostro patrimonio non possiamo proporre un verdetto definitivo o pieno e quindi lo facciamo perdere con una modalità un po' raffazzonata e quello che ha vinto non sembra quasi aver vinto o non essere consapevole della sua vittoria o della sua impresa non lì non in quell'istante i roz andando se ne sembra quasi un ladro sembra ammettere di aver vinto quasi per fortuna poi chiaramente a Raw rovesceranno la frittata e cambieranno le cose e staremo a vedere ma di tutti i match della card questo è stato quello che mi ha preso di meno perché mi ha dato un senso di incompiutezza e un senso di scarso coraggio e sono due cose che un po' odio cioè mi sta bene un match dove ci vedo degli errorini ma cacchio che bravi che bello che bel racconto la storia gli oggetti le intromissioni l'ignoranza che però fa spettacolo qui invece ho visto ancora una volta e succede spesso con Brock Lesnar anche la rivalità con Bobby Lesh nella fine entra in questo filone ho visto ancora il desiderio di non scegliere e di lasciare le cose in una vacuità sospesa che proprio ecco vorrei sottolineare proprio la parola soddisfazione che non ti soddisfa io ero disposto a vedermi questo match come gli altri bello rilassato popcorn alla mano anche se poi non li ho mangiati non ce li ho per davvero ma è per farvi capire no l'atteggiamento mio e qui no qui arrivo alla fine e dico cacchio che buono solo che l'ultima portata il dolce è quello che ti dovrebbe far andare a letto sazio felice e darti quel gusto no un po' di frutta un po' di cioccolato un po' di caramello un po' di torta della nonna un po' di crema catalana e dici sapeva di niente era quasi salato e ci sono dei dolci salati buoni e questo non era uno di quelli non lo so questa è la mia analisi di backlash secondo me è un evento molto molto valido questo va chiarito uno show che ha avuto un successo clamoroso che potrebbe aprire altre frontiere alla WWE che potrebbe essere un altro punto di partenza per quella espansione mondiale che ormai hanno fissa come un chiodo nel cervello ma che è stato ripeto ovviamente poi ci confrontiamo nei commenti ma che è stato un po' azzoppato o lo sarà nelle analisi che leggeremo almeno io ho questa percezione da un main event che non ha rispettato le attese ma tutto il resto sì tutto il resto sì sono stati veramente bravi e poi con quei tifosi lì io credo che ti mettano per citare un famoso spot pubblicitario le ali ai piedi anche se hai i calli alle dita e le vesciche sui talloni pubblico eccellente e credo che si meriti una seconda edizione di un evento del genere così come chissà mai con la WWE che vuole andare un po' ovunque e sapendo quanto i wrestler amano l'Italia il sogno è che prima o poi si riesca anche nel nostro paese ad avere qualcosa di simile pur essendo noi molto lontani per tradizione e per concretezza numerica di business che possiamo portare in questo momento alla WWE pur non essendo noi al momento nelle prime posizioni di un'eventuale lista di priorità ora io la mia ve l'ho detta sono opinioni a caldo poi magari avremo modo anche di rivedere se ci sono qualche imprecisioni e voi mi aiuterete nei commenti e proprio lì vi rimando quindi dita roventi ora tocca a voi qui sotto ditemi cosa vi è sembrato cosa vi ha dato questo backlash se vi è piaciuto se vi è emozionato qual è stato il miglior match della serata e soprattutto sono curioso di leggere cosa ne pensate del main event di leggere